Mi chiamo Mike Rowe e questo è il mio lavoro. Là c'è una zebra e lì vicino c'è un asino e laggiù c'è un altro asino. Ma non c'entrano niente con quello che dobbiamo fare qui oggi. Siamo in Texas, alla riserva naturale Wiley, per occuparci del Pear David. Il Pear David è un cervo originario della Cina, ma essendo estinto non vive più in Cina. Qui in Texas ce ne sono parecchi esemplari e l'obiettivo principale è farli riprodurre per poi prendere alcuni Pear David texani e riportarli a vivere in Cina da dove sono venuti. Si carica un dardo. Al qui interno è stato introdotto il farmaco. Io ce la metto tutta, accidentaccio, ma non c'è niente da fare. Maledizione. Ovunque andiamo, loro ci fregano sempre. Quanto grano serve per un sacco di farina? Un sacco se non lo rovesci. Uno a uno? Sì. Versala dentro. Molto bene. Il sistema migliore consiste nell'usare le mani e piegarlo. Poi prendi la cucitrice. Facilissimo. Mi ritrovo continuamente a versare, setacciare, sollevare, ruotare e... non so da che parte girarmi. Grazie a questa esperienza posso dire che i mugnai di una volta non erano dei fannulloni. Questa macchinetta è difettosa. Preparatevi. No, ma dai! Asporcarvi le mari.